Ciao a tutti ragazzi, oggi vi ho riportato Riccardo! Ciao a tutti! Per chi non lo dovesse sapere, mio fratello vi ho fatto anche una challenge che vi lascio qua sotto a cui Riccardo però non ha risposto sempre bene, quindi mi avete suggerito di punirlo e questa sarà la benitenza! Infatti! In tantissime mi avete scritto, non ha risposto bene, quindi vendicati! Allora, lo truccheremo! Io vi lascio comunque il video qua sotto e anche il video degli assaggi giapponesi che l'avevo fatto un po' di tempo fa, vi lascio tutto qua, ma iniziamo subito! Allora, non so che trucco faremo, c'è quello che viene via, intanto iniziamo col correttore Ti devi girare? No! Non fare questa faccia! Sotto le occhiaie! Sotto le occhiaie! Quindi ti devo girare gli occhi? Si! Se no dentro, però... È sotto l'occhio! Capito? Non mi fa male! Girati! Mi sento un coglione! Lo sei! Aio! Ok, adesso sfumiamo! Allora, dovete sapere che io Riccardo in realtà lo truccavo anche quando era piccolo e se riesco a trovare la foto in cui è truccato completamente di blu, ve la metto da qualche parte qui che adesso posso farlo! Avevo tre anni! Si, già! Io ne avevo cinque! E andava anche bene! Adesso che ne ho quasi 17 non va bene! Già, perché il 18 gennaio è il suo compleanno quindi fate gli lavori! Si chiama Riccardo Grilli su Facebook! Raggiungetemi! Allora, andiamo direttamente con gli ombretti! Mi sento più pesante! Ti senti pesante? Allora, come ti trucco? Non mi truccare! Con la naked! Oro! Ma sì! Oro! Oggi sarebbe stato il blu però! Quindi argento sarebbe meglio! Ok, argento! Guarda che sta rosa! Tu va! Aio! Oh, per favore! Sono delicatissimo! Non è vero! Mi stai ciccando! Aio! Che carino! Ma che non ci credo! Aio! La ciglia! Non vedo l'ora di mettergli il mascara perché lui ha le ciglia lunghissime! Proprio lunghissime! Maia! Cosa che io non ho capito! Perché naturalmente sono la femmina della famiglia e lui deve avere le ciglia lunghe! Perfetto! E io no! Cioè, non ho preso neanche il piegaciglia perché tanto so già che non serve! Cioè, schifo! Aio! Riccardo? Aio! Oh! Come sei carino! Già sei più femminile! Poi ditemi se ci assomigliamo quando... Quando sarà completamente truccato! Continua a dire che voi siete delini! Adesso punto luce! Oddio! Che vuol dire? Niente! Sarà più chiaro al centro! No! Aio! Pizzica! 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 Non faremo nessuno smoghi! Gli metto la matita! Ok! Adesso matita nera! No! Sì sì! Tanto so che non la sfumiamo però te la metto anche sotto! Eh? Ti trucco come Stash! Allora! Cantissimo per lui! Aia aia! Fermo! Ma la sta mettere nell'occhio! Fermo! Ah! Un po' che è arrivata la metto sotto! Che vuol dire sotto? Non riesco a capire gli occhi! La carta inferiore! C'è dentro l'occhio! Oddio! Che carino! Ma che... Non ci credo! Ah già perché io non ho lo specchietto! Cioè quindi lui non si sta vedendo! Sarà tutta una sorpresa! No! Voglio vedermi! No! Voglio un specchio! Voglio un po' tutto il specchio! Aspetta! Girati! Cioè io non riesco ad aprire le ciglia verso la fine! È normale? Eh? Cioè tipo qua non riesco ad aprire le ciglia! Oh ma come sei carina! Penso quando arrivi... Mamma non c'è! Tra l'altro! Vedo l'ora che arrivi! È perché secondo te io sto così fino a che mamma non arriva! Certo! Chi te se beve! Chi te se beve! Ma scara beve! Figlio! Mi sento appiccicose! Non mi preoccupare! Vedrai col mascara! No! Cioè già me l'ha messa la mia ragazza una volta! Quindi... Non l'ha messa un abituato! Alice ha avuto... Alice si chiama una ragazza! Ha avuto questo onore! Certo! Noi me lo faccio mettere da tutte quante! Cos'è? E senta la matita! No! Ho paura! Apri! Guarda in giù! Guarda in giù! Già anch'io! Ma non è vero! Tu non ce ne hai ne d'occhio! Ah! Guarda in giù! Mazza però! Sei molto più bravo rispetto a tante altre ragazze! Oh! Te giuro! Io ci ho fatto sempre! Beh! È molto meno dolorosa rispetto a quanto pensassi! Già! Che occhioni! Oddio! Come sei carina! Adesso! Ciglia! 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 Cos'è sto coso? È per tappare i buchi! Ma do! Perché non ho portato delle pinze? No! No! Tu devi fare le sopracciglia ciccio! Sì! Pazienza! Pazienza! Guarda che c'hai! Tu c'hai spugli! Amen! Tante ragazze piacciono! Sì! Non a me! A te no! Che cos'è? Che cos'è? Gel! Oh! Non so cosa! Sì! Forse è un po' più chiaro delle due perché va bene per le mie! Però vabbè! Non fa niente! Non ci sono molto rispetto alle mie città! Sì! Che ci fanno! No! Voglio mangiare! A fare! Sì! Perché veramente per avere la luce giusta non l'ho fatto! Cioè! L'ho appena venuta da scuola! È tornata prima! E non l'ho fatto mangiare! Donatevi un panino! Manca un biscotto! Ne ha contato di poco! Bene! Adesso mascara! È arrivato il momento! Questo è anche l'incurbante dove vedete arrivano queste cose! Attenzione Morisio! Sta per arrivare un tornado! Sì che? Arriva un tornado! Io credo che dopo questo video la mia reputazione è andata decisamente appunto! Quindi sembrano finte! Oddio! Che rabbia! Io spero che voi lo riusciate a vedere! No! Non ti avvicinai che poi va via la messa al fuoco! Certo! Cioè! Cioè! Mi sento appiccicosa! Mi sento appiccicosa! Fa niente! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Non so se ridere o piangere! Io piango perché non ho le tue ciglia! Pure quelle sotto! Allora! Le ciglia sotto, le sue ciglia inferiori, sono più lunghe delle mie ciglia superiori! Quindi dice proprio no! No! C'è qualcosa che non va! Mannaggia la genetica! Fa una tinta! No! Sì sì! Poi hai preso quello più adattato da carnaggione! Questi cazzi! Perché c'è questo è troppo giallo! Però lui è più giallo di me! È un Simpson! Sì! È un giallo! Purtroppo! Purtroppo ti sei lasciato la barba! Pensala come una crema idratante! Uh! Ma quello non l'avevo visto prima! Non è una crema idratante! Idratante! Ehi! Lascia stare i miei capelli! Tutti abbiamo il perfetto! No! Me l'hai messo nell'occhio! No! Non te l'ho messo nell'occhio! Pieda te! Mi hanno dato un'impressione! Gira! Sì! È così! Già mi prenderanno per il culo a scuola! Figuriamoci poi a pallavolo! È a quasi finire la sua cipria! Ciprio ciprio ciprio! Mi sento come se mi stessero mettendo il gesto della lavagna a faccia! Questa fissa il fototinta! Che cazzo! Bene! Adesso blush! Se non lasciate un fottuto mi piace mi incazzo! Mi vengo a trovare a casa e vi guardo mentre dormite! Con questa faccia! Fa così! Come? Il blush! Girati! Rossetto! Mi rifiuto! Perché? Ti picchio! Si tratta di anche questo eh! Non ci credo! Te lo giuro! Come devo fare? Normale! Stai normale! Stai normale! Non ti bagnare labbra! Che schifo! Normale! Ma i denti! Eh lo so! Devi stare fermo! Ahahahah! Giulia non sa truccare! No si! Se te stessi fermo! Eh cazzo! Me lo metti sui denti! Eh lui! Te lo metti sui denti perché tu la mia bocca! Eh tu mi hai detto sei normale! Io così sono normale! No! Mettile fuori! Esci le labbra! Esci le labbra! Esci le labbra! Vabbè a parte queste labbra orribili! Allora il trucco è finito! Adesso Riccarda! Perché lo metti con Riccarda! Si vedrà! Il maschile di Riccarda è Ricciarda! 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 Allora adesso Riccarda si vedrà per la prima volta! Ricciarda! Qui c'è lo specchio! Oddio! Ve l'ho acciegato! Lo so! Sembra una battona! Non sembra una puttata! C'è proprio una battona del basso fondo! Non è vero! Questo è un trucco normalissimo! La battona! Non è vero! Vabbè ho delle cilie enormi! Ti ho detto! Apprezzi? Ti piaci? Ti piaci? Beh no! Manco per cazzo! Il video è finito! Mettete un foto da mi piace! Che colpa vostra! Mettete mi piace! Se ti volete rivedere Riccardo! Magari senza trucco stavolta! Diteci se volete... Che video volete che facciamo? No! No! Io non mi fido di voi! Diteci un video qua sotto! Qualsiasi cosa! Posso torturarlo! O lui a me! Qualsiasi cosa! Lasciate un mi piace! Mi raccomando! E un commento su questa cosa! Iscrivetevi naturalmente! E noi vi mandiamo un grande bacione! Mua! E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao!